Questa mattina in attesa che arrivi un po' di gente partiamo con qualche novità. Lenco LBT188 Bluetooth, è un giradischino molto molto interessante, trazione a cinghia, veramente bello, tutto manuale, 33-45 giri, guardate braccio in alluminio, finitura ebony laccata e anche bluetooth per chi desidera fare anche quella connessione. 250 euro, io penso che nel mercato un giradischi così carino, così estetico, con la sua cappa e tutto, ce ne siano veramente molto molto pochi. A noi piace veramente tanto tanto, ne abbiamo presi un po' e per ora sono ben disponibili perché sapete che ci manca tanta tanta roba nel mercato. Questi ovviamente li spediamo. 230 persone subito pronti via in un secondo, ci fa molto piacere. Buongiorno a tutti, fateci sapere mentre ci siamo, da dove ci state scrivendo. E anche il tempo perché qui c'è una nebbia che si taglia con il coltello, quindi speriamo che Rufoni, che viene dalla bassa, non abbia problemi ad arrivare. Esatto. Intanto che aspettiamo le vostre domande, che come sapete potete farci domande, curiosità, e cerchiamo come sempre di rispondere a tutti, andiamo a vedere un'altra novità che è appena arrivata, particolare diciamo. Sì, esatto. Dunque, questo è un progetto Fostex a tromba, con caricamento a tromba, monta due largabanda, sempre della Fostex, adesso io non ricordo il modello, se è il 207, 107 hanno dei numeri, comunque dopo ci guardo un attimo. Presto li troverete in vendita sul nostro sito, sono state fatte tutti in multistrato da un falegname, perché la finitura è veramente fatta bene, peseranno quasi 40 kg l'uno, 35 kg l'uno, e non avranno un costo esagerato. Sapete che l'autocostruito, diciamo, ha dei valori limitati. Io penso di mettere fuori attorno i 700 euro. Quindi, per chi vuol provare largabanda, l'alta efficienza, queste per le voci sono una cannonata. Una volta tu avevi, che mi avevi dato, questi woofer, però quelli tipo erano più vecchi. Sì, sempre della Fostex, non col... Gli ho venduti un sacco di soldi negli Stati Uniti, tipo 400 euro, perché comunque valevano. Mi hanno perso il pacco. E' stato uno dei pochissimi pacchi che mi hanno perso le poste. Va bene. Nel frattempo, Domenico ci manda 50 stelle. Domenico, grazie mille, e anche Roberto, 99 stelle. Allora, ciao da Ligliano Sabbiador, ciao da Barletta. Ciao, 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 ciao. Cosa ne pensate del Rose 250, che è lo streamer? Sì, esatto. Lì l'esperto e supertecnico è Matteo. Comunque, sia Rose che Cocktail, lì vendiamo veramente molto, molto bene. Mi pare che il 150, Matteo, lo tenga anche sempre a magazzino, se si riesce. Ok? E devo dire che come prestazioni, forse il 250 è anche un filino superiore al cocktail audio. Come comodità e possibilità di espansione, aggiornamenti e quant'altro, forse è un filino inferiore. Questo è l'idea che mi sono fatto. Intanto ci sono già 600 persone connesse, che non è male per l'ora in cui siamo. Vi ricordo, se volete sostenerci, di mettere un bel mi piace alla diretta, così saliamo. Nel frattempo ci hanno chiesto, intanto, che modello è questo giradischi che abbiamo presentato all'inizio. È l'LBT 188 e come fare per acquistarlo. Guarda, molto semplice, invia una mail a info-audiocostruzioni.com dove dici che sei interessato e noi ti spieghiamo tutto. Per il pagamento, Paypal, bonifico, se lo vieni a ritirare qua, insomma, tutti i nostri sistemi di pagamento e di acquisto. Nel frattempo, Fabio, grazie mille per le 50 stelle. Cosa ne pensate delle Polk R200 e della serie R in generale? Con cosa le abbinereste? Allora, le Polk R200 sono quelle che abbiamo vendute, secondo me. Secondo me adesso noi abbiamo la serie L. Sì, sono le Legend quelle lì, ok? Che le abbiamo messe a un prezzo veramente straordinario, secondo noi 1.350, perché queste sono quelle che usiamo per dimostrazione. Ma mi pare che di listino siano oltre i 2.000. Le 200, se non vado errato, erano quelle che avevamo prima a Torre. Che erano intorno ai 700 euro. Attorno ai 700 euro. Dunque, ti deve piacere, il diffusore è centrato, perché quelle lì, anche se penso che la Polk Audio sia americana o qualcosa del genere, non lo so, un suono quasi inglese, quindi molto molto lineare, belle, ok? Un bel medio-alto, un basso contenuto, ma non, diciamo, fiappo. Ecco, un bel bassettino, però la loro caratteristica era la linearità. Le mendevamo a 700 euro. Se interessano, siamo punto vendita, quindi basta chiedere e te le tiriamo fuori, senza nessun problema. Mauro ci manda 50 stelle, così come dall'Accademia, che ci segue sempre. Grazie. Emilio, 50 stelle, Federico, 100 stelle, grazie, sta arrivando un... Intanto, tanti dicono che c'è il tempo soleggiato. Ah, ok. Sono qua, la nostra, un posto di merda. Maurizio, che ci manda 100 stelle, ci fa anche una domanda. Quali diffusori a Torre per un Arkham Alpha 5 entro gli 800 euro? Allora, eh, lì devi decidere tu a che livello, cioè, diciamo, vuoi arrivare come tipo di suono. Perché? Ti faccio un esempio. Noi continuiamo a vendere molto bene, te le consiglio, finché ci sono a questo prezzo, perché aumenteranno, le Magnat, le 1.2. Queste qua sono diffusori, tre vie, ok? 490 euro, dimensione che ancora in casa è, penso, spero, sopportabile dalla moglie e suonano bene, suonano avvolgente, ok? Hanno tutto quello che deve avere un bel diffusore e queste mi sento di consigliartele veramente tanto, tanto, tanto. Se vuoi, qua di fianco c'è anche l'altra serie della Magnat, la Tempus, che è la serie un filino superiore, anche queste andranno ad aumentare, siamo intorno ai 600 euro. Ultima alternativa che ti posso dare, un pochino più costose, queste le nominiamo sempre, sono le clips che vanno bene sempre un pochino più. Esatto, quelle sono un pochino più americanigianti come tipo di suono, quindi un basso un po' più rotondino, boom boom, e un medio alto, un pochino più frizzantino. Massimo ci manda 100 stelle, grazie. Ci saluta anche Emilio. Ciao Emilio, MAPI 100 stelle, grazie mille. Andiamo a vedere che adesso vado un attimo veloce alle stelle, poi, ecco, ah, scusate, perché qua c'è lo schermo che è davvero, non piccolo, minuscolo. Pierluigi 50 stelle, grazie Pierluigi. Rosario 50 stelle, grazie. Francesco 100 stelle, grazie mille. E Alberto ci dice, buongiorno da Arzachena, Sardegna, qui Gran Sole, ci manda 100 stelle, una vostra opinione sulla classe D. Allora, torno a dire, perché ogni tanto mi arrivano queste domande, dunque, la classe D ha avuto per un periodo un grande successo, era tutto partito con il T-amp, un amplificatore che con 20 euro, diciamo, ti suonava bene, soprattutto il medio alto, poi alcune case hanno continuato a farle, mi vengono in mente i Ice Power, si chiamavano qualcosa del genere, della Bang & Olufsen, che molti hanno usato, anche la Jeff Roland, per esempio, casa americana, veramente importante, con tutti i prodotti molto molto costosi. Ahimè, il mercato non l'ha ricepito, perché? Il basso, la classe D non ce l'ha tanto, ok? È un basso leggero, ha un gran medio alto, veramente eccezionale, ma il basso gli manca. Allora, alcuni cosa facevano? Magari mettevano più di questi componenti, questi Ice Power, per dargli potenza, ed equalizzavano un pochino il circuito, ma quando lo vai a equalizzare, non hai un suono, come posso dire, che agli audiofili piace. Stefania, 50 stelle, grazie mille Stefania, Marco, 50 stelle, grazie mille, sto dando un po' al contrario, ecco, Ivano, che ci ha mandato, 50 stelle, grazie Ivano, ci fa anche una domanda, buongiorno da Vipiteno, 1000 metri, provincia di Bolzano, neve sui monti, qui niente nebbia. Però dopo, non so se mi hai fatto un'altra domanda, c'ho il continuo a leggere, copia e incolla la domanda, che ti rispondo. Intanto, siamo 855, però, non forse così tanto ci sembrate solo per il Black Friday, aspetta perché ci vengono tante domande, che mi sono un po' perso. Sì, tanto volevo far vedere qualcosa. No, 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 aspetta, perché sono pieno di domande. Come vedete, le Proacy Tablet, con il Musical Fidelity M3SI. È proprio una bella accoppiata, e vi spiego perché. Le Tablet sono praticamente le antagoniste delle Rogers, delle Spendor, delle Kef 3-5, che sarebbero queste qua, delle Stirling, no? Che sarebbero questi diffusorini di questa dimensione. Le Tablet sono praticamente le loro antagoniste, piccoline così, però, come tutti i diffusori di questa dimensione, non hanno tanti bassi. Il Musical Fidelity M3 è un amplificatore con il basso bello caldino, quindi l'accoppiata è ottima. Con questo tipo di apparecchi, cos'è che non ci va bene? NAD, non ci va bene ROTEL, perché sono un pochino troppo lineari per questo tipo di altoparlanti. Allora, ho perso un po' di domande, perché ho sbagliato io. Scusate se a qualche domanda non ho risposto, o qualche domanda con le stelle non vi ho ringraziato, magari rimandatemele che ve le rispondo. Adesso mi sono messo in pari, ho sbagliato io. Mauro 100 stelle. Ciao Mauro, grazie. Arrivo. Aldo, 50 stelle. Ciao Aldo, grazie. Tra un AccuFace e 380. Sì, che abbiamo da qualche parte, esattamente là. E ho fatto uscire il video ieri, tra l'altro è piaciuto molto. E un Macintosh MA 5300. Chi ha più dinamica, chi spinge di più? No, allora, più dinamica ha questo, assolutamente. cioè la costruzione è un pochino più importante e anche il peso, sì, c'è, c'è, c'è molto di più, ok? Quindi la dinamica e il modo di suonare, questo ce l'ha dell'Ampli, di fascia un po' più alta. Ahimè, costa anche un po' di più. Però, il 5003 ha una prerogativa. L'hanno fatto con questo colore qua, classico americano, classico Macintosh, anche se non è più il colore di una volta, che era praticamente quasi un effetto ludness. Hanno molto ridotto questa caratteristica e a questo suono un po' brillantino, un po' colorato, però tutto sommato gli strumenti sono lì giusti. Questo qua, cosa ha invece di meglio? Questo sei dentro un'orchestra, quindi la gran cassa è lì, ti fa boom, ok? Ti fa boom. Magari il Macintosh ti fa boom, capito? Ti dà un po' di cose, ok, allora i puristi vogliono questo, tra l'altro questo è un pochino più, come posso dire, meno affaticante all'ascolto, è più adatto a lunghe sessioni e forse un pochino più corretto. È una bella gara, ecco, diciamo così. Come bisogna fare per contattarvi? telefono no, mail no, le mail le rispondiamo tutti i giorni sempre, quindi manda una mail e vedrai che riceverai la risposta. non rispondiamo il secondo dopo, ne abbiamo circa 250, le abbiamo contate al giorno di mail, di cui alla mattina ce ne troviamo 100 e della tele donata 150, quindi di solito rispondiamo il giorno dopo, se riusciamo anche al pomeriggio, se no il giorno dopo. Francesco ci manda 100 stelle, grazie mille Francesco. Aldo, buongiorno, avete dei Macintosh usati? Ti rispondo io, così diciamo un attimo riposare Davide. Sono, ho chi c'ha il microfono sempre? Va bene. Eh, ok. Allora, il 5200, ne avevamo due, uno l'ha preso Ruffoni, l'altro è andato, è rimasto, l'ultimo, questo è bello ragazzi, vedrai che non arriva a fine settimana prossima, il 6300, 100 watt per canale, quindi è il corrispettivo del 5200, modello precedente, 2600 euro, se no abbiamo tutta della robetta vintage in giro, robetta per modo di dire, tipo i 275, il C32, e i finali vari, questo è quello che abbiamo disponibile al momento, e, ecco, bravissimo, che questo arriva da noi, di un nostro super cliente, che è il 6600, ahimè, è aumentato di prezzo anche questo, aumentando i listini dei nuovi, ovviamente aumentano anche i listini degli usati, trasformatori di uscita, 200 watt per canale, bellissimo, 5500, va bene, è meglio usare l'ingresso Fono dell'Ampli, oppure il pre-Fono esterno? Eh, è sempre una bella gara, dipende anche dal costo dei due prodotti, mi spiego meglio, se tu hai un giradischi che costa 300 euro con l'uscita Fono, e un amplificatore che con 300 euro ti danno anche l'ingresso Fono, forse è meglio quella del giradischi, perché la ottimizzano un po' di più per quel tipo di braccio e giradischi, questa è la teoria, la pratica poi dice che, quello che dico sempre anche ai miei clienti, mettete due cavettini, ok, uno in ingresso Line, uno in ingresso Fono, poi dopo faccio lo switch, magari con un disco vi suona meglio uno e magari con un altro vi suona meglio l'altro, perché può essere, perché magari uno ha più bassi e trovate un disco che è pieno di bassi, quindi vi va bene l'entrata che esce con meno bassi, ecco, questo è un pochino l'altro. Ok, ciao, vi seguo sempre, sono un installatore Hi-Fi Car, ottimi impronti che avete, grazie Maurizio, con le Warfare, questa è una domanda che fanno sempre, sistematica, ma rispondiamo perché so che interesserà più persone, con le Warfare del Evo 4.4 che ampli consigliate e le avete disponibili e che prezzo hanno? Intanto le ben disponibili sì. Facciamo vedere l'Evo 4.4 che sono un po' il diffusore del momento, no, è già da un po', sono quelle che vedi lì con il Twitter a nastro, il medio a cupola e due Warfare da 16 cm, se ricordo bene, in Kevlar, vanno molto bene anche le sue più piccoline, ok, le 4.2 che sono sempre tre vie, Warfare da 16 cm e medio in Kevlar e medio a cupola, scusate, quelle lì costano 7,60, sono tutte e due molto interessanti. Queste costano 1.490, non so se l'hai detto visto che ce l'ha chiesto, l'hai detto... Non lo so, comunque lo ripetiamo, 1.490 non è un problema. Cosa succede? Sono durette. Quando voi vedete delle sospensioni dure con il Kevlar di solito, non è una regola, però di solito sono un po' dure, quindi ampli caldi. Gli ampli caldi possono essere Advanced Acoustic, se vuoi partire dal basso, l'XA75, XI75, che è questo qua, che con 6,90 ti fa un suono bello caldo, è forse il più caldo insieme agli Exposure, ma di solito gli Exposure si trovano usati, no? Ha tante cose, ha l'entrata Fono, ha l'entrata USB, sia da computer che chiavetta, ha la regolazione dei toni, è bello, se uno vuole ci mette anche la sua chiavetina Bluetooth e spende 6,90. Altrimenti ci sono i Musical Fidelity o i Roxanne, per esempio, i Roxanne K3, questo qua, finché c'è, perché abbiamo alcuna 2-3 modelli con il Bluetooth a questo prezzo qua, 1.490. Anche la testa va molto bene, consideratelo, il nuovo della rossa. Bravissimo, adesso quello lì devo ancora fare uscire la cosa, sono ampli, caldi, che vanno bene con questo tipo di diffusore, fai un bel lavoro. Wow, 50 stelle, buongiorno dal Portogallo, grazie, grazie mille, troppo gentile, adesso mi provo a rimettere in pari, Giuseppe, 50 stelle, quali sub clips avete disponibili e a che prezzo. Allora, al momento, tutta la linea nuova è praticamente disponibile tutta, le possiamo ordinare dopo per il prezzo magari mandarci una mail. Abbiamo che è appena arrivato il 120, questo qui, un usato in condizioni pari al nuovo, con ancora in ballo tutto. Dobbiamo ancora fargli il prezzo, cos'è l'SPL 120, forse, qualcosa del genere. Questa è la serie più bella perché vedi la finitura e tutto, un buffer bello importante, bello corposo, faremo il prezzo e dopo te lo facciamo trovare sul sito. Mirko, con un Roma 5 e 10 ho delle sonetto 3 ma non ho molti bassi, se mettessi delle sonetto 5 sarebbe meglio? Allora, partiamo da un presupposto che il Roma 5 e 10 che è questo qua, che monta delle valvole KT88, ok? Adesso qua non viene mica via il coso, sono quelle cicciotte. Queste hanno il pregio di essere molto correntose e anche belle rotonde sul basso. Poi naturalmente dipende anche dai trasformatori d'uscita. Alcuni produttori per risparmiare mettono trasformatori d'uscita piccolini, allora lì il basso gneee. Quando i lavori sono fatti bene come nel caso di questo Sintesis Roma che è ancora prezzo interessante, 2450 a fronte di un listino molto più altro, oltre 4.500 perché abbiamo fatto il contratto, suona bello, pieno e caldo, 80 watt e video scorrendo. Se vuoi passare alle 5 naturalmente tu trovi un giovamento perché è matematico, hai woofer più grandi e hai, come posso dire, litraggio più grandi. Altri diffusori con bassi così diciamo rotondi e piacevoli non è facile trovarle perché siamo già diciamo come posso dire tra i diffusori che suonano dopo bisognerebbe passare alla serie nuova ma ahimè con delle cifre io dico un'eresia dimmi pure che magari il 510 bellissimo amp è una grande musicalità una bella rotondità ma se uno cerca il basso la profondità che secondo me è un altro concetto io sinceramente cambierei il Roma e ci andrei a mettere ad esempio un musical fidelity non so se dico una no no il Roma il Valvolare non vi aspettate questo basso profondo pieno ha un suono iper musicale bellissimo grande ha tanti pregi però secondo me se uno cerca un basso che lo faccia venire più dal basso più dal profondo se uno gli mette un 200 watt della musical fidelity l'M6 secondo me ti viene fuori di più potrebbe si perché ti arriva più diretto il basso lo senti qua lo senti boom così mentre il Valvolare ha un bel basso è più nell'ambiente è difficile da spiegare ma è così allora Angelo 100 stelle grazie allora rispondiamo un pochino più in fretta perché così dopo mi riesco a rimettere in pari le Teufel Definition 3 le conosci? no purtroppo non lo sai non lo conosco Giuseppe 49 stelle grazie mille grazie supereremo i mille in diretta siamo arrivati a 992 record ancora vediamo perché siamo lì intanto vi ricordo intanto che rispondiamo cerchiamo sempre di rispondere a tutti se volete mettere un bel mi piace alla diretta ci supportate è gratis basta premere un tasto e grazie Davide mi fa impazzire come stai spiegando dice Mario amplificatore sotto i 5000 da abbinare alle sonetto 8 ora Roma 510 allora le sonetto 8 anche quelle sono molto interessanti però anche quelle come andiamo su con i numeri il basso aumenta e il Roma 510 che è validissimo secondo me forse molla troppo il basso ecco lo lascia lo lascia andare quindi tutta quella serie di amplificazioni te ne dico uno perché visto che adesso è tutto aumentato ma questo ancora c'è forse uno a questo prezzo per esempio bello questo Roxanne Black questo qua che ne abbiamo una 3350 150 watt questo te le fa andare da dio questo amplificatore non ha nessun problema se lo paragoni a roba più grande non vorrei dire che se anche gli metto l'acuphase quello là il 380 che costa 10.000 euro ok glielo metto a pari è una bella gara perché questo è venuto veramente molto bene io ti faccio un esempio di una cosa che sta dentro a una cifra tutto sommato umana poi se invece vuoi investire un po' di più naturalmente i Macintosh l'8009 abbiamo un 7200 un po' a prezzo oppure gli acuphase vanno tutti veramente molto molto bene ma ti ci serve un po' di corrente se ci fosse se tornasse disponibile il musical fidelity quello che diceva prima filo l'M6 anche quello potrebbe non è disponibile non è disponibile al momento o se no provo a pensare anche all'M8 della musical fidelity tutti ampli vigorosi che dominano i diffusori e che stanno bene con quel tipo di diffusore che è eccezionale e per la prima volta leggo un mila prima prima volta mille non ci erano mai arrivati mi fa davvero davvero piacere grazie a tutti quelli che ci seguono Marco 100 stelle volevo sapere come suonano i diffusori focal spectra quarantesimo allora guarda focal quelle lì non li ho mai avuti ma conosco piuttosto bene la marca anche perché le vendevamo anche perché sono andato alla dimostrazione delle canta così loro hanno fatto tutta una serie di prodotti sempre molto francesi molto brillanti con un basso leggerino ma voglio dire questo non deve essere una critica perché ad alcuni piace sentire il dettaglio poi hanno fatto le canta che sono sono andati un po' oltre quindi sulle canta veniva fuori il basso io penso che da lì in poi anche quelle che hai venduto tu l'altra sera quelle grigie ce l'avevano il basso secondo me tutta la nuova serie si sono un pochino più stabilizzati diciamo hanno un po' messo a posto il basso il medio alto è sempre eccezionale delle focal quindi mi viene da dire anche se non le conosco che potrebbero essere molto molto interessanti Mirko 99 stelle grande Mirko grazie Tony 50 stelle volevo un paragone tra le clips RP8000 e le Kev di pari livello tipo le Q950 allora Kev bellissime stesso discorso di focal occhio perché hanno pochi bassi le 8000 sono queste qua le RP8000 ahimè sono dei bei stufioni sono belle grandone però piacciono molto suonano all'americana quindi un basso bello presente è un medio alto che ti arriva è chiaro che questa versione rispetto alle la serie R normale è un pochino più raffinata al medio alto dà meno fastidio anche se anche le 820 normali sono molto migliorate io ti consiglio queste perché le conosco vedo che la gente le prende se ti stanchi con una coppia di diffusori come questi le vendi il giorno dopo perché sono richiestissime a un privato richiestissime le clips usate quindi diventa la KEF una volta che uno la mette su stupisce è il primo acchietto perché ha questo medio alto molto squillante molto preciso quindi uno dice cavolo quanti dettagli si sentono però alla lunga alle volte poi dipende sempre dall'ampli che andiamo ad abbinare possono risultare un pochetto affaticanti comunque Paolo Cimana 350 stelle Paolo grazie non c'era mica bisogno e Eugenio 50 super meravigliosi grazie mille grazie grazie adesso proviamo a Matteo 100 stelle come vedete un Macintosh abbinato a delle clips allora è l'abbinata classica diciamo che ultimamente Macintosh si vende con Focal scusate con Sonus Faber perché fa parte dello stesso gruppo molto rivenditori ma compreso noi ok hanno lo stesso diciamo lo stesso abbinamento ma storicamente Macintosh è sempre stato venduto con Tannoy e Clips quindi vai tranquillo sono una copiata che va davvero molto molto bene Marco 100 stelle grazie mille grande adesso provo a rimettermi in pari oggi davvero oggi mi fanno tutti i record di commenti mi piace hai visto un Technics mi fate vedere meglio se sono interessato se hai visto il Giradischi secondo me non hai visto il Giradischi ma io voglio far vedere il Giradischi che è di là che visto che ne sono arrivati due non arrivano mai una volta che sono arrivati facciamoli vedere il 1500C tra l'altro nella storia chi ci segue su Instagram che ci hanno fatto delle domande ho fatto vedere il Giradischi nero dicendo che li abbiamo solo silver e tanti mi hanno detto ma sei ubriaco questo lo teniamo qua per dimostrazione perché noi dobbiamo tenerne sempre uno qua perché se lo vendiamo dopo non sappiamo più cosa dire ai clienti ecco il Technics l'SL 1500C che penso che con gli ultimi prezzi perché prima si vendiva a 1000 penso che questi ultimi che siano arrivati dobbiamo ancora andare a vedere la fattura perché oramai si compra la roba solo che vediamo che c'è e noi la compriamo senza neanche quasi sapere il prezzo perché c'è poco materiale penso che andremo a 1100 però è da confermare questo di bello ha rispetto al 1200 essendo una versione più home quindi non abbiamo il pitch control e tutte le varie regolazioni che ha il 1200 che alla fine del disco si alza e il disco si ferma quindi il Giradischi si ferma veramente molto molto comodo soprattutto per chi mette su un disco si muove come facciamo anche noi o come chi fa chi si addormenta durante il disco Luca ci manda 100 stelle grande Luca Warfade Elevo 4.4 le abbiamo fatte vedere anche prima la diretta poi viene salvata e le abbiamo disponibili sia nuove da spedizione che qui in negozio e allora adesso Daniele 100 stelle grazie mille 1014 record scrivono grazie grazie avete le Linton Black no le abbiamo Walnut e abbiamo l'ultima coppia probabilmente al prezzo precedente esatto che è 1250 con gli stand però da confermare perché ieri avevo visto un paio di mail sempre su quei prodotti lì bisogna vedere se ci sono ancora purtroppo ragazzi tutti i preventivi che mandiamo tutte le cose che vi diciamo hanno validità 24 ore ormai ma non per colpa nostra per colpa della situazione neanche colpa dei distributori insomma è la colpa della situazione che è così e purtroppo non si sa musical fidelity visto che siamo l'M6 con le GBL L82 potrebbe essere una valida copiata assolutamente sì allora noi continuiamo a vendere molto bene sarà perché le abbiamo presentate bene sarà perché si possono venire ad ascoltare tutte e tre e penso che forse siamo l'unico negozio d'Italia che le abbiamo tutte e tre in esposizione sicuramente uno dei pochi diciamo uno dei pochi inoltre abbiamo anche le altre quelle diciamo a torre la di là quindi siamo poi le ho messe di là le ho messe di là la serie H diciamo quindi stupiscono stupiscono queste naturalmente le L100 sono quelle che vanno per la maggiore più piene di bassi e più piene ragazzi suonano molto meglio rispetto all'assento riverto non c'è paragone purtroppo non c'è paragone queste suonano benissimo queste hanno un filo meno di bassi ma non è che siamo molto lì però l'hanno fatto un filo più monitor come tipo di suono ma guardate che la differenza è come il filo della polenta si dice da noi queste qua cosa hanno di bello rispetto alla dimensione io non dico che arrivano a questi bassi ma ma credete stupiscono quindi sicuramente per chi non ha tanto spazio ma vuole il suono GBL in casa cioè un suono boom bello bello pieno bello pieno queste qua vanno da dio Leonardo ci manda 100 stelle Nico Monterisi 100 stelle grazie mille ragazzi scusate a chi non sono riuscito a rispondere ma Francesco ci manda 100 stelle non riesco a leggere tutta la tua domanda copiamela incollala che dopo la leggo speriamo che Facebook prima o poi metta a posto questo questo problema forse un problema ma non lo so Giuliano 100 stelle ci fa una domanda per un upgrade ad un lector ZX70 allora il ZX70 è un integratino che forse come dice anche la sigla è 70 watt molto ben suonante quindi non puoi spendere poco perché quel ampi lì era venuto bene l'hector è noi non la trattiamo però è un come posso dire un piccolo genietto il progettista no purtroppo non si impegna per fare numeri quindi lui fa la sua produzione così gli va bene così ed è giusto così quindi devi spendere investire un po' di soldini mi viene in mente il musical fidelity per esempio l'M5 no perché se vai con l'M3 insomma si migliori ma cosa però ahimè 1.880 ok Roxanne K3 continua a essere molto interessante o Roxanne a tessa con quei tre modelli lì di sicuro perché io ti ho proposto tre modelli che suonano caldi perché l'hector è così suona caldo quindi non ti voglio dare un Rotel un 1572 che è bellissimo è lineare c'ha un bel medio alto è raffinatissimo dettagliatissimo però dopo dici però prima avevo un po' più di calore adesso l'ho perso invece con queste tre macchine che ti ho consigliato continui ad avere il calore però hai un suono sinceramente migliorato Michele che ci manda 99 stelle ci chiede cosa ne pensate delle dali Ober 3 allora tutti parlano bene delle dali a noi quando sono capitate sono piaciute sinceramente purtroppo non siamo conto vendita quindi altre informazioni conto vendita quindi altre informazioni no 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 allora no 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 adesso dobbiamo fare un discorso devo dormire qua no no adesso dobbiamo fare un discorso perché bella però la felpa non va mica bene allora gli diamo il MA5003 aspetta fammi parlare ha un prezzo molto interessante perché è lui ok a un altro non glielo davo viene qua con degli usati praticamente mi dice lui il prezzo che io gli devo ritirare io dico che va bene l'accordo era con Filippo però vieni alla diretta del sabato mattina presto perché c'è il microfono al contrario la prima volta si è presentato alle 8 meno un quarto che Filippo era ancora a letto gli ha telefonato sono già qua va bene poi così come i bambini no i bambini capito posso parlare puoi parlare adesso che ho spiegato tutto hai ragione tu un bambino un bambino prima si mechitos poi no mechitos poi forse mechitos adesso tra noi ma cosa dicono gli altri appassionati mi hai portato tuo figlio a scuola c'è la nebbia allora sei scusatissimo abbiamo parlato tu lo sai Ruffo che hai il pregio di essere una persona talmente brava buona che tu sei sempre scusato quindi io ti sgriderò sempre ma tu sai io ti sono quasi come dire lassù no che ti perdona sempre capito allora devi sapere che anche in tua assenza abbiamo fatto il record siamo a 1100 ho sentito ero con il volevo ringraziare i miei amici di Genova ah quelli di ieri siamo andati a mangiare e nonostante dicono che i genovesi sono un tirchi mi hanno offerto il pranzo ah dalla vecia melnetta grazie Roberto grazie Valerio sono andati in un posto che povera è soprannominata la vecia melnetta cioè la vecchia sporca ecco diciamo che si mangia da dio non trovi mai posto e c'è delle tagliatelle che sono tra le migliori al mondo diciamo e infatti è sempre pieno oppure la vecia rusnetta insomma ma ci andiamo sempre anche noi cioè non è sporco dai facciamo questa domanda per Ruffo con delle Vienna Acoustic se volete fargli delle domande adesso abbiamo gli ultimi vediamo 10-15 minuti facciamo un po' di domanda anche a Ruffo ma mi piace molto la tua maglia oggi sai oggi sei fashion dove l'hai presa? a Luppim ah Luppim bello bello mi piace bravo con delle Vienna 23 euro è bella con delle Vienna Acoustic Baby Grande su che tipo di amplificatore devo orientarmi? correttoso il black quello il black della che abbiamo detto prima rocks and black ancora vecchio prezzo per poco 3350 che è un prezzo strepidoso perché mi pare che di destino sia a 5000 e 4 mi pare una roba del genere quello ragazzi è un bel amplificatore ho dovuto mettere il black perché ha la stessa potenza di questo si però no è di più c'è a 150 questo è la 140 però è molto molto correntoso è molto molto interessante è arrivato il maestro Ruffo dottor Ruffo buongiorno Ruffo è il numero 1 Ruffo sei il numero 1 devo venirmi a conoscere troppo simpatici Ruffo numero 1 ma sono tutti diversi 1100 tutto merito allora qua c'è uno che ci sta chiedendo l'amplificatore Technics sullo scaffale dobbiamo farlo vedere quello là quello là è interessante è saluto fuori che l'abbiamo lasciato qua un po' adesso ve lo faccio vedere questo qua è Technics SUV2A dovrebbe essere così perché non ci vedo niente no? è molto carino con i suoi V-meter la classe A di Technics che non era una vera propria classe A insomma va bene era classe A di Technics però 180 euro molto molto carino Ruffoni che ampli consigli resti? questo è un diffusore che piace a te per le Tad CR1 una donna una delle mie casse preferite lì c'è un pre-finale puoi dire anche qualcosa che non c'è qua non ti preoccupare che non c'è niente mi viene e mette l'aere tra le cose che abbiamo un aeree può già se uno vuole investire poco chiaro che per chi non non conosce queste TAD sono diffusori che di solito partono dai 20 mila euro in su dico bene quindi parliamo di diffusori di fascia super super alta è la praticamente la sezione super esoterica della Pioneer la TAD il mio amico le ha le fa andare con un ampli da 23 mila euro che ampli ha? pre-finale pre-Jeff Roland in due telai e finale PS Audio da 300 watt per canale eh per dire cioè quella roba lì potrebbe andare bene il 12 mila della Macintosh il 9 mila della Macintosh 250 300 watt quelle lì vanno tutti molto molto bene i Gryphon per esempio sono molto adatti perché c'è anche l'integrato insomma roba di fascia veramente molto molto alta Roberto ci manda 100 stelle grazie Roberto Ermanno Ermanno ti aspetto sempre per fare il video delle casse avrei bisogno di un pre-fono cosa mi consigliate fra i vostri prodotti magari mandaci una mail o vieni qua in negozio che ti faccia vedere qualcosa te lo dico io perché eh allora per esempio mi è entrato questo fono DS che costa poco lo vai a vedere sul sito costa poco questo qua ha tutte le regolazioni vedi MMMC quindi ti diverti come un matto spendi niente perché non costava né molto da nuovo e usato ma secondo me Ermanno vuole qualcosa di che giradischi era riuscito a tirar fuori perché c'è un giradischi bello secondo me vuole un pre-fono bello qualcosa di un po' più se no avevamo anche guarda il black cube anche questo costa un filino di più di quello lì mi pare no e guarda anche questo c'è tutte le regolazioni ok e comincia già a essere il statement che è il più economico però parlo sempre di mi pare 400 euro altrimenti abbiamo quelli della che non so se li abbiamo ancora quelli della cosa Cleraudio li abbiamo venuti tutti va bene quelle lì comunque Filippo ogni tanto a Milano te ne può prendere una a un prezzo particolare sia chiediamo insieme il modello ci ne avevamo uno bello della Macintosh si esatto ma vabbè Ruffo Forever Ruffoni numero uno vediamo vediamo ah lì sei un po' andato in giù vabbè sei moderno Ruffo mi farai spendere una fortuna Ruffo allora come va il Macintosh da Dio da Dio continuo ad andare bene da Dio i tuoi amici che vengono a casa vedono il Macintosh che dicono eh non si dopo io alzo il volume ho delle casse che sono splendide hanno bisogno allora dicono Dio è buono però eh però non ha controllo sui bassi c'è tutto ti vogliono tirare fuori qualcosa che non c'è infatti ma comunque va bene per sei mesi può andare bene dopo vediamo dopo vediamo cosa che ti vuoi ti viene no dopo l'accordo è te lo ritiriamo noi partendo da quel prezzo che ti ho fatto non darlo mica a dare a altri rivenditori che non farei mai una cosa ok Ruffo number one Ruffo sei grande grande Ruffo oggi c'hai Ruffo number one che tutti volevo chiedere a Ruffo se è meglio Infinity oppure Arbet cerchi di tenere il microfono se riesci più vicino sono due cose completamente diverse l'Arbet è più raffinata dipende anche del genere musicale l'Infinity è più americana ti piace come parli prima ho sentito insomma l'Infinity ma qua l'Infinity non c'è più l'Infinity vabbè stavo pensando che l'Infinity si parla di roba usata comunque Arbet preferisco l'Arbet ti faccio una domanda che tiriamo sull'audience e questo nuovo giocatore della Juve ti piace quello che ha acquistato è forte sì abbastanza io di calcio non so niente però so che lui tiene la Juve sì 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 è meglio non parlare di queste cose perché sono qui dopo perdo anche un po' di simpatia ehi Milani spingo vai un po' giù come politica e calcio è meglio non tirare mezzo perché si divide Renato ci manda 50 stelle migliori diffusori ad abbinare a un Denon PMA 800 ti rispondo io velocemente ci può essere l'Eclipse l'RP600M queste qui non ti sbagli mai ne abbiamo anche una coppia 500 euro cioè non dico che è nuova perché è usata però non ha l'imballo ma sono tenute come le nuove oppure ci sono sempre le classiche l'Indiana Line le monitor audio il PMA 800 ha un pregio che pilota un pochino tutti i diffusori in quella fascia di prezzo Triangle Borea BR03 anche molto belle allora a parte che qua c'è una luce brutta mettiamoci qua perché lì ci sono sempre i faretti che non si vede Ruffo presidente subito adesso potremmo lanciarlo non maltrattate Ruffo alla faccia di Bezos il suo Fred Commerce resistete ragazzi quei pochi euro che a volte si spendono in più ve li meritate una volta finita la pandemia bisognerebbe organizzare un raduno se organizzassimo tipo un pranzo secondo te quanta gente verrebbe Ruffo? io Raffaele Raffaele un amico di Filippo secondo te quante persone facciamo su se facciamo tipo finita pandemia un pranzo al sabato a pranzo una cinquantina al minimo ma secondo me molte molte di più non ci possono non ci possono non ci possono bisogna prendere andiamo 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 e fare tipo i matrimoni le rane ciao raduno e le rane Ruffo presidente della repubblica aspetta che adesso mi metto infatti mi dicono un microfono non vi ho mai sentito parlare delle Dain Audio come vanno grazie allora Dain Audio io scusate questa storia ve la racconto noi tutto sommato le Dain Audio le vendevamo abbiamo venduto anche qualche prodotto bello di qua di là e non lo so perché da un giorno all'altro l'importatore evidentemente guarda Davide facciamo sconto 10 guarda noi sconto 10 lo facciamo al cliente no no perché qua e la destra a sinistra sconto 10 allora le Dain Audio non le vediamo più va bene sono tanti marchi non che non pagavamo perché molte volte ci piace anche pagare in anticipo perché così a fine mese se non abbiamo tante rime da pagare siamo dei pagatori boh va bene va bene Roberto ci manda 50 stelle ci dice vi aspetto a Monza per vedere per il video dell'impianto quando sto in zona un giorno magari possiamo andare a fare un po' in là se vogliamo fare il video del dove andiamo al Tempio del Suono no evidentemente andiamo a casa del Signore che vi ha invitato per fare le chiacchiere Cristian ci manda 50 stelle e scrive viva Ruffo Ruffo paga da bere Ruffo il Quirinale Quanti insultano Ruffoni vendilo subito il Mac la musica si ascolta con le orecchie e non con gli occhi ma lui sai cosa ascolta Ruffo costruzioni è bella questa allora Martina ci manda 50 stelle e ci chiede ciao cosa ne pensate del Tic T-T-T-A che si dice così TN300 gira dischi si il TN300 secondo me è un po' stile quello lì dico bene Ruffo te che forse sai tutto si ma non ci sono non ci sono il problema è che la Tic no ha perso l'importatore europeo hai capito quello è vero però io ho visto e anche di altri lo possiamo dire Bocci che è l'altro youtuber che fa un po' anche lui di Hi-Fi che ha pubblicato questo video di questa cassetta della Tic nuova ah ok e allora dopo mi sono chiesto ma da dove il registratore a cassette la Tic effettivamente era l'unica ditta al mondo che faceva un registratore a cassette che poi aveva anche il player il cd player di fianco e lo faceva e infatti mi diceva il gestore alle vendite che viene anche sempre qua che ne vendevano tante anche se costava parecchio poi è successo quel lavoro lì l'importatore non c'è quindi o il video vecchio oppure no no il video è nuovo è uscito poco tempo fa qualche uno evidentemente è riuscito a riprendere la Tic adesso ci informeremo però noi siamo di notizie vecchie si no perché fanno i prodotti che sono sia giro di schi che portatori sono molto validi che vorrei dire perché vado molto a memoria la fabbrica che fa quel giradischi lì è questa qua ok quella che produce anche questo dell'elenco perché è praticamente identico ok quindi se ti piace quello lì lo trovi benissimo se no guarda opta su questo che sono sicuro che viene dalla stessa parte ed è fatto praticamente uguale 50 stelle per la felpa di Ruffo grazie Marco per averci mandato 50 stelle se Ruffo è Juventino loro lo vogliamo presidente Simone un suggerimento per cambiare le Silver 500 la sesta generazione quindi quelle vecchie abbinato a Rotel l'RC 150 ma non ho capito la domanda cioè se vuoi cambiare le casse magari riscrivimelo che dopo ti rispondo grandissimo Ruffoni Ruffo cambia squadra vogliamo Ruffo al Quirinale Ruffo sindaco di Roma Ruffo persona buona Ruffo Juve non si può io verrai a mangiare ci dicono Paolo ci manda 50 stelle grazie grazie mille si sente un po' basso perché Davide fa un po' di confusione e non si dice niente grande Ruffo ma perché? eh così va bene e allora aspetta che adesso mi provo a mettere in pari che facciamo le ultime troppo forti i pantaloni di Ruffo con le prese d'aria Simone ci mangia perché è un ragazzo è un ragazzo Simone ci manda 50 stelle Alberto 100 stelle grazie mille Ruffoni ci hai tradito con il Macintosh perché lì prenderai molti nemicizie ma io l'ho avuto anche in passato che l'avevo dato dentro qua ti ricordi? sì sì quindi non è vero che ho tradito Ruffo Juventino no caduto un mito e aspetta che Ruffo ah no allora aspettate perché adesso sono rimasto troppo in mente ci siamo un po' persi in chiacchiere un buon piatto ah qua no allora rispettiamo questa poi l'altra un buon piatto intorno ai 400 euro cosa mi consigliereste? ti faccio vedere io qualcosina che ce l'abbiamo qui sì allora l'LP3 dell'Audio Tecnica siamo a 2,90 completamente automatico molto carino perché è completamente automatico bellino questo è quello che vendiamo di più Project T1 piatto in vetro braccio in alluminio testina ortofon nero lucido molto molto bello c'è anche finitura legno che piace c'è anche finitura legno ma secondo me noi non ce l'abbiamo sempre 330 euro poi dopo ti faccio vedere un'altra cosa Tini un attimo il cosi quello che hai venduto ieri ce n'è più? eh no adesso lo ordiniamo anche quell'altro là mettilo in su ecco tra l'altro è arrivata una domanda il Rega P1 usato che avete fatto vedere ieri è il P1 classico o il Plus prezzo no dovrebbe essere già l'ultimo questo qua l'ultimo P1 eh eh quello che esce adesso e che si vende adesso questo qua addirittura è la fintura nera lucida che a noi noi su in solaio ne abbiamo alcuni due o tre però è la nera eh che è quasi un grigione satinata ok e sul prezzo sul sito trovi anche il prezzo questo qua molto probabilmente ti dico che non lo venderemo perché essendo uguale all'ultimo eh lo teniamo qua in esposizione beh adesso vediamo perché io sono anche del perfetto poi vediamo dai dopo vediamo o se no c'è sempre l'enco l'LBT 188 che è molto bello secondo me 250 euro Ruffo complimenti per i jeans Ruffoni prendi un bel perro e col perfono dentro sì 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 eh Ruffo Ruffo pantaloni col bass reflex anteriore grandi ragazzi ascolta Pasqualino ci manda 99 stelle viva Ruffo i suoi calzoni eh opinioni sudali l'abbiamo detto prima sono degli ottimi diffusori ma per adesso non li non li abbiamo qui in negozio non li trattiamo ma quelli che sono capitati io direi che oggi abbiamo sempre per i giri a dischi scusate poi facciamo finiamo la carrellata c'è anche questo qua eh infatti io volevo andare su qui perché se vuoi salire invece siamo intorno ai 5,50 questo è il Debut Carbon Evo testina 2M Red braccio in carbonio il piatto è in metallo in alluminio e dentro c'è un anella in TPE che è un materiale plastico per ridurre le vibrazioni carino guarda 33-45 giri dovrebbe fanno anche i 78 con una cinghia supplementare che è inclusa in confezione abbiamo l'X2 poi dopo ci sono tutte le extension tutta una bella serie allora va bene abbiamo fatto tutti i record grazie a tutti quelli che ci hanno seguito grazie a tutti quelli che ci hanno dato un messaggio simpatico che ci hanno fatto ridere noi vi aspettiamo eh quando le aspettiamo sabato prossimo ah certo sabato certo promesso almeno le 8 e mezza no almeno qua almeno ciao a tutti ciao ciao